Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Firenze in Prunete e in Cisareggello in direzione Roma. In A12 a causa di un incidente senso unico alternato e rallentamenti in entrata a Rosignano in direzione Livorno. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Sul raccordo Sena-Firenze rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di San Donato che attualmente è chiuso in uscita in direzione Siena. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze code in via Bolognese all'altezza di Villa Finali a causa di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato per lavori. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!